Qual è la tradizione barese per il 25 di dicembre? Siamo venuti qui all'Arco Basso, nel cuore, nel quartier generale delle pastaglie della città per chiedere proprio a loro oggi brodo o no? Nunzia, si lavora anche il 25? E che si fa? Si sta fermo. Il 25 c'è il brodo, i quadrucci freschi, bisogna anche approntarli, no? Quindi per la tradizione diciamola, a Bari? Sì, oggi si mangia il brodo con i quadrucci. Il trid, diciamo in dialetto, è un composto di semola, il brodo che noi cuciniamo, trombiamo sempre la massa, aggiungiamo le uova, una manciata di formaggio e il prezzemolo trittato molto piccolo. E se andiamo, ti faccio vedere quali sono. Talvolta si usa invece fare il brodo il 26 invece del 25. Perché dicono tanti, come i miei figli. Invece mia nonna era tradizionalista, voleva sempre il brodo. Invece i ragazzi miei dicono, mamma fai un risotto, fai altro, ma non fare il brodo, che di Natale il brodo non lo gustiamo. Dipende. Invece mia madre che ha 90 anni e da tanto che lei è tradizionalista purtroppo, dice no, io voglio il quadrucci a brodo. C'è pure chi fa le verdure, i cardoni, la verza, altre verdure. Domani invece che facciamo? Domani si ricarica nuovamente lasagna, cannelloni e chi più ne vuole più ne metto. Ormai non c'è più la stabilità del menù fisso. Si approntano anche questi paccheri e altro. Un po' più innovativo. Certo. Grazie. Auguri! Grazie.